Si terrà domattina l'incidente provatorio per la vicenda dell'omicidio del 22enne di Vasto, Italo De Lisa, freddato da colpi di arma da fuoco nel pomeriggio dello scorso primo febbraio e per il quale è indagato il 34enne Fabio Di Lello, rinchiuso in isolamento nel carcere di Torresinello a Vasto. L'appuntamento è fissato per le ore 10 a Pescara, presso lo studio dell'ingegnere Domenico Dorazio, il consulente della procura di Vasto, laddove si svolgerà l'accertamento tecnico irripetibile sui cellulari, tablet e in generale strumenti informatici dell'indagato e della vittima. La procura tenterà dunque di cristallizzare le prove, l'esame servirà agli inquirenti per ricostruire le dinamiche immediatamente antecedenti il delitto, per capire, tra le altre cose, se qualcuno aveva avvertito lo stesso Fabio Di Lello della presenza in via Pert quel pomeriggio di Italo De Lisa, ovvero il giovane che lo scorso luglio aveva investito e ucciso la moglie di Di Lello, Roberta Smargiassi. Con il consulente della procura ci saranno anche quelli di parte dell'indagato e della famiglia della vittima, non ci saranno i rispettivi avvocati. Verranno annotate le chiamate fatte negli ultimi giorni, gli sms scambiati, messaggi inviati tramite social network alla ricerca di elementi che possono essere utili alle indagini. E mentre l'inchiesta sul delitto va avanti ed entra nel vivo, resta il dolore in mane nel quale sono state catapultate le due famiglie. I genitori di Italo De Lisa rivendicano d'ora in poi la necessità di vivere questo dolore nel pieno della loro riservatezza, lontani dai riflettori e dal clamore mediatico, e provano a stemperare il clima. Non odio nessuno e non proviamo rancore, chiediamo solo di restare tranquilli e rispetto per la morte di nostro figlio, ha dichiarato Angelo, il papà della vittima. Ieri mattina invece, per la prima volta da quando è in cella, i genitori di Fabio Di Lello, Papa Roberto e Mamalina, hanno incontrato il figlio. Evento preparato dai legali dell'indagato Giovanni Cerella e Pierpaolo Andreoni e autorizzato dal GIP Caterina Salusti. Un momento toccante nel quale il giovane alla vista dei genitori è scoppiato in lacrime per poi tornare in quel silenzio nel quale si è rifugiato dopo il delitto e dal quale gli stessi legali provano a ridestarlo per ora vanamente.